Salve a tutti da Casa Cerea, la gestione mobiliare di Cerea. Siamo oggi a proporre in zona San Vito di Cerea un'abitazione tutta su un piano in costruzione, molto interessante, su di un lotto di 400 metri. Internamente si sviluppa in soggiorno, cucina open space, tre camera a letto, due bagni, un garage con angolo lavanderia. Attualmente in costruzione con la possibilità di intervenire sulla scelta delle finiture. Stutturalmente si tratta di costruzioni rivolte alla ricerca costante di metodologie e materiali atti a ottenere le migliori prestazioni energetiche. Quali fondazioni ad iglu, muratura armata, cappotto da 12 cm, particolare attenzione ad eliminare ogni ponte termico, il rispetto delle normative riguardanti la produzione del 35% di energia da fonti rinnovabili, la ventilazione meccanizzata, il riscaldamento a pavimento, la candela condensazione, l'impianto solare termico ibrido che lavora insieme alla caldaia. Questa in sintesi le caratteristiche che portano l'abitazione ai massimi livelli in quanto a classificazione energetica. Per il resto abbiamo tutta la descrizione delle opere e delle finiture interne, con il capitolato presente in ufficio. Possiamo vederlo insieme, così possiamo fare tutte le valutazioni del caso. Il prezzo è competitivo, si tratta di un'abitazione tutta su un livello, molto interessante e lo vedete in sovimpressione. Nei salutavi vi ricordo di scaricare l'applicazione Casa Cerea nel vostro tablet e smartphone per essere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità. Grazie, arrivederci.